Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 13 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo Scorpione. Splendita giornata, tutte dritte. Tutte dritte per voi quest'oggi, con il placetto della luna seria e compassata in capricorno e del suo dirimpettaio Marte nel segno amico del cancro. Dunque un fuoco che scalda le acque dell'anima ma non brucia, infatti viaggi, studi, trattative proseguono bene, garantendovi ottimi guadagni. Dalla vostra parte anche il sole insieme al piccolo mercurio nel segno razionale e pragmatico della Vergine, una garanzia di armonia tra la polarità maschile e quella femminile di ognuno, esattamente come voi col vostro entourage. Ma la ricchezza a cui tenete di più è quella interiore, intessuta di alti ideali e di conoscenza, quella con la C maiuscola che non si apprende dai libri ma dalla vita. Il futuro, il desiderio di cambiare presto vita, un futuro migliore. Quello che segue avverrà nel futuro, avverrà. Cambiamenti in atto, novità in arrivo, destino che si predispone. Amori possibili a condizione di vedere lontano e con maturità. Giorni fecondi di opportunità in amore a partire da oggi almeno per tre giorni, chi intende coltivare una conoscvenza fatta da poco questo è il momento giusto per farlo. Solo non fate voli pindarici e nelle vostre scelte restate sempre con i piedi ben piantati per terra. Non è che forzando la mano su una questione che otterrete i migliori risultati, anzi insistendo troppo rischiate di perdere il contatto con la realtà e farvi illusioni. Pericolose. Oggi siete confusi e taciturni, avete le idee chiare, ma non riuscite ad esprimerle. Correte il rischio di essere fraintesi, perciò è consigliabile evitare discussioni impegnative. Momenti lieti in casa. Nuovo arnore o il ritorno di una vecchia fiamma. Ti sentirai sereno e contento. Importanti la casa e la famiglia. La tua capacità di imparare o di insegnare sarà in primo piano. Potendo scegliere sarà meglio trascorrere la serata da soli evitando le compagnie noiose e fugaci. Leggete un buon libro o cercate di vedere qualche film interessante. Buona grinta la vostra in questa giornata che vi crea qualche preoccupazione dal punto di vista economico e qualche malinteso, in serata, con qualche vostra amicizia. Guardate oltre e datevi da fare per un impegno che avete preso da molto tempo. Ostacoli per un progetto che avete in mente. Oggi vi sentirete sfiduciati e particolarmente tentati di abbandonarlo. Siate certi che gli avvenimenti di oggi serviranno a rinvigorire le vostre speranza e la fiducia che avete in voi stessi. Buone prospettive di rivedere in meglio il vostro progetto per il futuro. Momento ideale per scegliere un profumo nuovo e, perché no, cambiare trucco e look. Oggi una canzone potrebbe farvi tornare alla mente una persona per la quale avete tenuto tantissimo. Attimi di tristezza vi assorbiranno. Non lasciate però che l'intera giornata sia condizionata da questo. Passaggi celesti belli vi gratificano, con qualche eccezione, che vi può far sembrare più imprevedibili e controcorrenti del solito, trovandosi in angolo disarmonico per voi. Saturno, Mercurio, Marte e Nettuno, in posizione felice, vi donano lo scatto muscolare unito alla rapidità d'azione e all'agilità delle gambe. Vi piacerà lanciarvi negli sport che vi strappino alle vostre abitudini sedentarie. Andate forti soprattutto negli sport acquatici che si ricollegano al vostro elemento de lezione, l'acqua, appunto. Ecco la vostra giornata fortunata con tutti gli astri a favore, la luna in capricorno, suo marito il sole con mercurio in vergine in se stile Marte in cancro. Unico fuori dal coro, ma comunque innocuo, Giove che nel settore numero 8 dell'oroscopo, cioè le casse, non solo mantiene saldo il vostro gruzzoletto, ma provvede a rimpolparlo con guadagni e piccole vincite. Meglio di così solo nelle fiabbe. Amore ed Eros. Idealisti condividete sogni, principi e teorie col partner, i figli e tutti coloro vi girano attorno catalizzati dalla vostra personalità. Se di tanto in tanto una breve divergenza di opinioni c'è nessuno si sogna di alzare la voce, illustrate con calma la vostra posizione, sicuri di essere compresi. Al mondo non esiste una sola verità, ma a milioni, tutte le sfaccettature di quell'unica equiparabile ha un prisma che da qualsiasi parte lo si guardi riflette comunque un raggio di luce. Per captarne la vera essenza occorrerebbe uscire da questa dimensione. La luna sorride al vostro segno essendo positiva dal segno fidato alleato del capricorno dal quale vi colma di un gusto per la vita che condividete con la vostra anima gemella, specie se festeggiate il vostro compleanno in ottobre. Se il tempo ancora lo permette, e se vi trovate nella località giusta con il vostro, o la vostra, partner, curate passioni sportive come il nuoto, le passeggiate al mare, le gite. Non si esclude un recupero del dolce far niente che voi tanto amate. Successi di un certo rilievo registrano i single di tutte e tre le decadi. Lavoro e denaro. Massimo impegno negli studi, in affari, nelle trattative con l'estero dove avete buone possibilità di uscirne vincenti già al primo colpo. E il merito va tutto a voi, anche se alle spalle avete un buon numero di colleghi e collaboratori impegnati a sostenervi, procurandovi tutto il materiale, le informazioni e i dati necessari per sbrigarvela in fretta limitando al massimo il rischio di errore. Rassicurante anche l'entità delle vostre finanze, opportunamente investite evitando spese inutili dettate esclusivamente dal consumismo. Quel che non serve uccide sentenziavano i latini e con ragione. Riuscite a imporvi su altri colleghi più convenzionali inserendo un tocco della vostra estrosa creatività. Nettuno in ottima posizione per la terza decade, apre a soluzioni che altri non si sognavano minimamente di realizzare. Benessere La massima latina sulla necessità di non esagerare sull'importanza del giusto mezzo e il rifiuto di tutto ciò che non occorre non vale soltanto per gli svaghi, ma anche e soprattutto per l'alimentazione e l'ambiente. Inutile mangiare più di quanto il corpo non richieda per il suo fabbisogno, un gioco che alla salute non va a genio e sotto sotto nemmeno al portafoglio. Sempre pescando dall'antichità validissimo il principio della virtù che sta nel mezzo. Per lei, sesso e sentimento si compenetrano e si comprendono, all'uomo che amate offrite la parte migliore, sicuri di metterla in buone mani. Per lui, un'auto nuova vi farebbe davvero comodo, ma attaccati come siete alle cose nelle quali riconoscete un'anima, preferite tenervi la vostra carretta, anche se beve di più, e vi fa passare per braccino corto. Non importa, la vostra Carolina è quasi una fidanzata. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.